Ciao a tutti ragazzi e ragazze oggi sarà un nuovo video e oggi cucineremo qualcosa e siamo in compagnia di Kekoshiro ragazzi perché ovviamente Kekoshiro non si può diffamare ragazzi Kekoshiro non si può diffamare per questo video di oggi andremo a utilizzare prosciutto 300 qualcosa grammi insalata già condita perché quella scondita fa a cagare vero Francesco? vuoi assaggiare? vedi se è buono fa a cagare ok ragazzi va bene va bu può essere buono è buona ci vuole un po' di sale? no ragazzi è buonissima non mangi la tutta è buonissima hai ragione vabbè vuoi con il resto sarà buona 5 polpette no 6 polpette non so manco compare non basta niente 6 polpette come di un coso ecco no no un coso un coso di cosi madonna un coso di cosi mettiamo le polpette ovviamente a forno perché fanno schifo quelle lapite a Kekoshiro non piace ma no com'è stati non so no perché ne devo prima fare no stupido non sei stupido scusa allora praticamente dobbiamo fare dei involtini andiamo a fare dei involtini a panino tipo gravi patti come aveva fatto prima cosa andiamo a tagliare andiamo a tagliare io taglio no 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 Kekko no Kekko una no 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 tagliare così così la devi tagliare ah ho capito te la tagli male tu stupido ma la puoi tagliare così eh bravo che cos'è riuscito tagliando un altro aiuto così si ok toglie sei il mio mio ca padre bravo posso assangere magari è molto buono ragazzi provatela qualche giorno vedremo giusto con nutella basta 40 like per giusto con nutella eh 40 like ci riesco ci riesco ci riusciamo però 20 like perché tu non riesci mai neanche io non ci riesco mai adesso andiamo a mettere questo coso da tutte le parti no io no eh no vabbè tu no vabbè alcuni non ce ne la salata che rimane la diamo a imma perché è un cavallo imma non lo sai quello che è un cavallo imma ma zocca non te la bombo marco addio raccortelo veramente oh no scusate raga non lo dite mai a vostri genturi se lo volete dire porco addio non lo dite mai a vostri genturi se no mi sculacciano la notte meno male che sono basso mi sento l'ultima ditta adesso mettiamo il prosciutto su tutti i cosi ragazzi veramente abbiamo coccionato insieme vero si ovvio tu hai tagliato la roba tu me l'hai procurata stai roba non è vero siamo a casa mia però si abbiamo fatto insieme che cazzo stai dicendo l'ammaggio siamo ovviamente nella casa nuova nostra ma scherzare siamo a casa mia se mi dite mi dite non ci sono per fortuna avrebbero già ammazzato non dire non dite questa parolaccia che ha detto vostri matri è perché sono la buffata di botte giusto un po soprattutto vostro padre mai vostro padre fa boh 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 oh che caso di vero zio cavolo zio merda checco ragazzi non l'ho detto niente comunque è vero non l'ho detto no aspettate le mie due scoglie ovviamente abbiamo un altro prosciutto ragazzi che con un attimo di la per attimo lo sa mia sorella ok mentre checco checco chechino 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 pino 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 pino